Forza, vieni a Dallas, la fortuna sbomperai, sa sbattere una chitarra, vieni a Dallas, vieni qui, sai ballare, balla. TV, sorrisi e canzoni e sei protagonista. Abbiamo messo un litro di benzina in due macchine uguali, tutte e due hanno quattro freni a disco, il ponte de Dion, due carburatori a doppio corpo. Siamo al tredicesimo chilometro, una si ferma, ha finito la benzina. È una Giulietta, l'altra continua, ma anche questa è una Giulietta. Sì, è la nuova Giulietta con consumi ridotti, perché tutte le Alfa Romeo hanno ridotto i consumi fino al 14%. Alfa Romeo, quando la tecnologia è arte. AIMO, Associazione Italiana Manifatture Ombrelli. Questo è il marchio che garantisce l'ombrello italiano a tutela del consumatore. Richiedete sempre l'ombrello con questo marchio. C'è un'Italia, Pozzi Ginori. È l'Italia che ha fatto la scuola del bagno. Il bagno, come valore della casa destinato a durare nel tempo, come studio attento delle abitudini, come comodità di gesti e di vita. Pozzi Ginori, la scuola italiana del bagno. Opere come queste resistono ad ogni attacco del tempo. Anzi, aumentano di valore, come gli immobili Europrogram. Europrogram investe i vostri risparmi in immobili utilizzati da aziende in espansione. 50.000 famiglie in Italia hanno già investito con Europrogram. Sì, i mattoni resistono a ben altro che all'inflazione. Europrogram, fondi immobiliari di diritto svizzero. Per saperne di più, telefona a Gedeco. È sull'elenco telefonico. Europrogram, un bel muro contro l'inflazione. Johnny Walker, Scotch Whiskey. Una giornata su. Johnny Walker, una giornata su. Lancia Trevi Volumex. La prima vettura di serie con compressore volumetrico. La prima e l'unica al mondo. La prima e l'unica al mondo. Dalle nostre grandi firme, la tua opinione. La stampa dà di più Presso le corti rinascimentali Alla fine di prelibati banchetti Si considerava particolarmente raffinato Gustare pregiati vini liquerosi Gli unici si diceva degni di concludere tante delizie Riservatevi il gusto migliore per la fine del pranzo Con moresco di corte Vino liquoroso E marito meraviglioso Se non fosse per quell'impossibile odore di piedi Divor Odor Le confortevoli solette a carbone attivo per deodorare E schiuma di lattice che assorbe la traspirazione Divor Odor funziona davvero Divor Odor, deodore e assorbe la traspirazione per tre mesi Sai come ti va se cominci a reggi gillette Ti senti meglio, sei giusto, sei a posto, ok Con il bilama che la faccia sa trattare Il bilama per, per incominciare Comincia bene, comincia a reggi gillette L'ho confrontata con tutte Escort è extraordinaria Poggia testa, lunotto termico, l'accendi sigari, guarda che strumentazione All'equipaggiamento più completo al prezzo più competitivo Solo Escort ha la quinta marcia standard su tutti i modelli Così si risparmia un sacco di benzina Escort è scattante, aerodinamica Non c'è confronto Escort vince tutti i confronti Extraordinaria Escort Premiatissima la grande gara musicale di Canale 5 Mette in pallio premi finali per 500 milioni E in più ogni settimana si vincono Un'automobile Ford 10 TV Color Autovox Una pelliccia Annabella 200 cofanetti Chase e Charlie Votate per i cantanti di Premiatissima Con le cartoline che troverete presso i concessionari Ford I rivenditori Autovox In tutte le profumerie che vendono i prodotti Chase e Charlie Nel settimanale Sorrisi e Canzoni TV E nei fustini e fustoni Dick Sun Della serie Premiatissima Ogni giovedì appuntamento con le pagine di ricerca personale su Il Giornale Nuovo Ogni giovedì appuntamento con le offerte di lavoro più qualificate su Il Giornale Nuovo Appuntamento con l'occasione che può decidere il tuo futuro su Il Giornale Nuovo del Giovedì Goldoni La macchina agricola che spazza anche la neve Goldoni Lo spazzaneve che lavora anche la terra Goldoni per avere di più Il ciclo della forfora I batteri attaccano il sebo provocando la forfora Rimuovere la forfora non basta perché il fenomeno continua a riprodursi Shampoo anteforfora chelenata interrompe il ciclo della forfora Perché anteforfora chelenata rimuove la forfora Elimina i batteri che la provocano Modera la secrezione sebacea Anteforfora chelenata Usato regolarmente interrompe il ciclo della forfora Anteforfora chelenata Colli Albani Doc Fontana di Papa Dalle verdi colline intorno a Roma Così naturale, così genuino Colli Albani Doc Fontana di Papa Servitelo ben fresco Colli Albani Doc Fontana di Papa Così profumato Delicato Colli Albani Doc Fontana di Papa Un vino come Dio comanda Vero Paco Oro Pilla Da un grande paese Un grande brevi Brion Vega Da alla televisione il massimo della forma Il massimo dell'immagine E oggi il massimo del suono Pan Sound Brion Vega Adesso la televisione è completa Pronta per il futuro Brion Vega Il massimo della qualità nella sua forma più bella Hombre Non è solo un classico western d'azione E anche un film intenso e drammatico che non dimenticherete La storia di un giovane bianco Cresciuto tra gli apache E della sua generosa lotta contro tutto e contro tutti Hombre Diretto da Martin Ritt Con Paul Newman e Martin Balsam Un film da vedere su Canale 5 L'amico delle vostre serate Mia suocera vuol farmi credere Che la caramella balsamica Victor se respira vivo Si sente nella gola e anche nel naso Nel naso Nel naso L'avrà visto in tv Nel naso Nel naso E' vero La caramella balsamica Victor Si sente nella gola e si sente nel naso Allora mia suocera ha ragione Sicuro Galletti hamburghesi Valle espluga Una sana specialità di campagna Teneri ma i grassi Ideali per ogni alimentazione Galletti hamburghesi Valle espluga Pratici Ogni galletto una porzione Sempre squisitamente inconfondibili Ma attenzione Non è galletto hamburghese Se non ha lo scudetto rosso Valle espluga Gran Mardini La gran moda Dal 1827 Dal firmamento delle creazioni Le Marcan Baibulova Ecco un modello di soli 6 mm e mezzo di spessore Bello Meraviglioso E questo sottilissimo Ultra piatto Pensate Solo 5 mm e mezzo Sì Bellegno Meravigliosi Piatissimi Tutti Le Marcan Baibulova Ma ecco l'ultima creazione Prestigio Ultra piattissimo Meno di 3 mm Elegante Solido Si carica ogni 3 anni Le Marcan Baibulova Usag Utensili professionali a mano Pinze e grip Chiavi combinate lunghe Giraviti Martelli per meccanici Il più vasto assortimento di utensili a mano di qualità Usag Magnum P.I. Domani sera alle 8.30 Un appuntamento col detective Che ha eguagliato i successi di 007 Sugli schermi di tutto il mondo Magnum P.I. Domani sera alle 8.30 per voi Su Canale 5 Bonjour Contour Contour Schiuma da barba ricca e corposa Per una dolce e perfetta rasatura Emulsione dopo barba La nuova freschezza Che è a cura della tua pelle Dolcemente Gillette Contour I nuovi placeri del mattino Bonjour Contour Bonjour 400.000 400.000 400.000 Anzi Meno di 400.000 Eh sì Da grappeggiare da tutto Sono diventati matti Pensate Vendono Anzi Regalano Salotti completi Come questi A meno di 400.000 lire Sì sì Avete capito bene Meno di 400.000 La roba da matti E poi sconti Sconti fino al 50% E grappeggia Mantiene quello che promette Grappeggia a reda tutto E a serenio A soli 9 minuti da Milano Infotech Copiatrici Che hanno paura Solo del black out Infotech Le copiatrici quotidiane Cartuccia Carica Ah Pressione Ah ah Un buon dentifricio Ah 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 Rapident Spazzolino Dentifricio Ci vuole un secondo Si può ricaricare A scuola Ah ah In viaggio In ufficio Ah 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 Rapident Spazzolino Con dentro Il dentifricio Ah 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 E per casa Rapident Lo spazzolino antiplacca Linea prevenzione Rapident Da un grande gruppo chimico farmaceutico Organi elettronici Farfisa Lo spettacolo Sei tu Camel Trophy 83 L'avventura continua Mille miglia nella giungla dello zaire Se accetti la sfida Telefona a questo numero Camel Trophy 83 Scopri il gusto dell'avventura Cinar Cinar E' sempre Cinar Bevuto liscio Cinar E' un ottimo amaro Dal carciofo Il piacere di un Cinar Una scelta naturale Il calcio americano E' uno sport da duri A proposito di America E' la prima volta che bevo Forrosis E devo dire che Questo bourbon whisky E' una piacevole sorpresa Oh per te che bevi solo Whisky scozzese A me è sempre piaciuto Per questo gusto Speciale Si Secco e morbido insieme Giusto Secco e morbido Però Sei anni di invecchiamento Che cosa si beve? Forrosis Bourbon whisky Perfetto Forrosis Le quattro rose Che parlano d'America Oggi c'è un nuovo modo Per arredare tutta la tua casa Kit Sistemi di mobili Tutti in scatola Ma come Anche una bella cucina In scatola Perché no Se è così giusta E funzionale E la camera dei ragazzi? Perché no Se è così diversa E divertente E pensata proprio per loro Anche in soggiorno In scatola Perché no Se è così comodo E accogliente E se si monta da solo In un attimo E risparmiando E anche E anche Kit Sistemi di mobili Tutti in scatola Cerca Kit Sulle pagine gialle Alla voce arredamento vendita O scrivi a Joint Via Legnano 6 Milano Telefon Charles Bronson Splendidamente diretto Da Don Siegel Telefon Un piano fantascientifico Per far scoppiare La guerra tra Russia e America Telefon Un film paradossale E vigoroso Ironico E spettacolare Per una serata Di grande effetto Sul sempre più vostro Canale C Un video Un film paradossale Un film paradossale Grazie a tutti.